legittimità onusiana, in senso tanto è vero che ho anche il sospetto che poi questo sarà un argomento che i russi faranno valere per determinate contromisure, come la cancellazione del gas pro, anche qui interessi italiani che avranno letteralmente sott'acqua. E allora, ecco, se noi si riusciamo questa strada, però, quello che è avvenuto con l'introduzione di sanzioni che avrebbero dovuto essere poste dal Consiglio di Sicurezza, sono state applicate generalmente da Unione Europea, Stati Uniti e altri paesi, svuotano la funzione del Consiglio, non solo, ma siccome il precedente, il diritto internazionale, ha una forza molto più rilevante che un semplice fatto della vita, fanno evolvere il diritto internazionale, la sua applicazione, in una direzione incoerente rispetto a quella della città. Grazie. Grazie. Grazie.